Volevo proprio segnalare che secondo gli ultimi orientamenti bisogna porre molta attenzione su quello che viene pubblicato sui contenitori online tipo Google. L'oblio è un diritto che va applicato e va applicato anche in una maniera rigorosa, per cui c'è un ultimo orientamento della Cassazione che ci dà proprio un'indicazione precisa. Al di là della correttezza della notizia, la notizia non può permanere oltre un tempo che è stato ritenuto indicativo, oltre i due anni. Internet ormai comunica tutto, oserei dire anche l'incomunicabile e non sempre l'esatto. Però è giusto che venga non compresso un diritto, quale è appunto quello della informazione, però non ha danno della tutela della persona e quindi determinati fatti, anche se accaduti, anche se hanno un profilo di negatività nei confronti della persona, devono avere un loro limite temporale di espressione della comunicazione. I provvedimenti che hanno una durata provvisoria o che nascono come una emergenza cautelare, possono poi essere completamente oggetto di revisione in un ambito di sentenza definitiva. Quindi sono delle espressioni momentanee, una fotografia immediata e perciò rapida e non corretta. E' evidente che un provvedimento cautelare divulgato condiziona sicuramente sia il giudizio di un collegio, di un giudice anche in sede singola, che è l'estensore di un provvedimento poi definitivo. E tutto quello che riguarda poi il dibattito, che anche giustamente si innesca su quel provvedimento, costituisce come dire un processo parallelo, che però non rispetta quelle che sono le regole del processo vero e proprio. Si sovrappone e molto spesso lo deforma. Quindi ci vuole attenzione, la notizia va sicuramente data, l'approfondimento non deve superare i limiti, dico io, di durata e di ragionevolezza, anche di una conversazione che avviene tra persone che non sono sicuramente addetti ai lavori, non per mancanza di competenza, ma soprattutto perché svolgono un dialogo in un ambito diverso. Se ciò avviene parallelamente al processo, ovviamente i danni possono essere rilevanti. Esattamente con quelle che sono le regole non solo di rispetto dei diritti in una maniera, diciamo, composta tra di loro e di conseguenza che abbiano una visione di non confliggenza tra gli stessi. Ma soprattutto sono entrambi i diritti importanti e possono coesistere. Mi spiego. La comunicazione di un evento, soprattutto di un evento di cronaca, e mi riferisco in questo caso a una cronaca giudiziaria, è doverosa. La notizia di un fatto, anche che viene ad essere stigmatizzato da un provvedimento giudiziario, è parimenti una notizia importante che ha quindi una valenza informativa determinante per la collettività. E quello che consegue dopo, che forse andrebbe regolato, andrebbe limitato, andrebbe corretto, e tutto quello che riguarda, diciamo, una comunicazione che potrebbe poi definirsi una sorta di talk show sull'evento, che anticipa addirittura quelle che sono le decisioni future, che a quel punto, da una visione, in una visione, diciamo, tecnica, ma anche in una visione proprio di cittadino, può offrire una lente deformata anche a chi deve giudicare. Per cui è evidente che situazioni di questo genere, poi, non offrono né buon servizio alla collettività, né possono dare alla giustizia un contributo. I processi vanno fatti all'interno di quelle che sono le aule giudiziarie, le comunicazioni vanno fatte attraverso i circuiti informativi. Sono due ambiti diversi che rispondono ad esigenze diverse. Informare significa comunicare, comunicare un fatto. La riflessione sul fatto è un approfondimento, ma deve essere limitata. Se io, in una ricerca su Google, trovo notizie perché, diciamo, la chiave di ricerca del motore mi offre uno zoom forte su di un evento e non ne ha uno stesso parimenti forte sulla risoluzione di quell'evento giudiziario, è evidente che il mio pregiudizio non soltanto permane e non soltanto è notevole e sproporzionato a quell'evento anche vero che si poteva verificare, si era potuto verificare anni addietro, ma non è emendabile. Cioè, essere praticamente etichettati per un fatto che è stato modificato o che è ampiamente trascorso significa non poter avere una tutela neanche in termini risarcitori e reintegratori. La notizia, la comunicazione di un evento è, come dire, è un flash. È come accendere una luce forte su un fatto e quella luce forte imprime una visione che non verrà più dimenticata. Come si fa a reintegrare una persona nel momento in cui l'immagine professionale del soggetto viene ad essere, come dire, affiancato un fatto negativo, reale o non reale che sia, ma comunque o coperto dal diritto all'oblio se è trascorso tanto tempo o, peggio ancora, modificato e corretto da provvedimenti successivi. Come si fa? Si dovrebbe ricorrere in tutela sempre? Si dovrebbe chiedere, lo si fa anche, l'oscurazione del sito? Ecco, oggi la Cassazione ha dato un'indicazione. Una notizia oltre due anni non è più ragionevole che per manga. Soprattutto se sia veritiera, ecco, perché poi in realtà se è stata modificata andava già corretta molto prima del decorso del tempo. Questa comunicazione e questa indicazione vale solo per i fatti che sono veri, accaduti. Proprio perché oggi noto che l'orientamento del diritto in una dimensione chiaramente modificata, necessaria, in una comunicazione allargata, offre molto spesso uno spaccato che va corretto. Cioè, la sentenza, il provvedimento definitivo è una chiusura di un fatto storico necessario che deve dare una risposta. Non è detto che sia la risposta esatta e procedendo con un'accelerazione, a volte molto spesso in casi eclatanti, mediatica, sicuramente si incorre più facilmente in errori. La mia attenzione futura sarà proprio su un percorso di revisione giudiziaria che ritengo essere un istituto che nasce con un'idea di eccezionalità, ma in tempi storici diversi e che oggi invece potrebbe trovare una necessaria applicazione, proprio perché molto spesso, in determinati ovviamente casi, in un'controtendenza con una legislazione che vuole eliminare il secondo grado di merito e per me è una cosa ovviamente incredibile in senso negativo, potrebbe essere uno spiraglio giusto. La mia attenzione didattica, scientifica, di approfondimento sarà per forza su questo tema.